Il Covid condiziona anche il bilancio 2021 dei decessi registrati nel Comune di Prato. L'Ufficio Statistica ha pubblicato i numeri dei primi tre mesi dell'anno. Sono 806 decessi, 230 in più dello stesso periodo del 2020 e ben un terzo di tutto il 2020, che con 2469 decessi ha segnato il record degli ultimi cinque anni. Non possiamo affermare che tutti i 230 decessi in più rispetto al trimestre 2020 siano da imputare direttamente al Covid, ma è chiaro che il virus ha giocato un ruolo determinante considerando che è l'unico fattore esterno nuovo entrato in campo. Va precisato che degli 806 decessi del primo trimestre 2021 erano residenti 623, oltre il 77%. Dei 183 non residenti, 105 risultavano provenienti da altri comuni del Pratese, 30 della provincia di Firenze, 21 da Pistoia, 8 dal resto della Toscana, 13 dal resto d'Italia e 6 dall'estero. Anche analizzando il dato mese per mese vediamo che il 2021 registra numeri più alti degli altri anni. Nei primi tre mesi del 2020, infatti, la pandemia non aveva ancora manifestato tutta la sua cattiveria, cosa che farà nei mesi successivi. A gennaio 2021 i decessi sono stati 274, 77 in più del gennaio 2020, a febbraio 222, 61 in più dello stesso periodo dell'anno precedente, infine marzo con 310 decessi, 92 in più del marzo 2020. Complessivamente il 92% degli 806 decessi aveva più di 65 anni, di cui il 47% era over 85, il 7,2% aveva tra i 45 e i 64 anni.